Siamo in Svezia, al confine con la Lapponia, e sto per portarvi in una delle esperienze più incredibili e più assurde che abbia mai fatto. Vi sto per portare a bordo della Polar Explorer. Una rompighiaccio di 78 metri di lunghezza, in grado di portare circa 200 passeggeri e di solcare lo spesso ghiaccio del Mar Baltico. Questa è la Polar Explorer, che vi promette di realizzare un'esperienza davvero unica, che richiama affascinanti avventure di esplorazione di inizio novecento. Per vivere tutto questo, ci siamo imbarcati ad Axelsvik, in Svezia, sulla parte più a nord del golfo di Botnia. E quando la nave è partita, è stata un'emozione incredibile. Il ghiaccio ha iniziato a rompersi sotto di noi come se fosse burro, mentre il paesaggio che avevamo intorno ci ha lasciato senza parole, un'enorme distesa bianca. Dopo circa un'ora di viaggio, la nave si è fermata permettendo a tutti i passeggeri di provare due esperienze uniche. Per prima cosa, siamo potuti scendere dalla nave e camminare direttamente sul ghiaccio, permettendoci di avere una visione della Polar Explorer davvero privilegiata. E poi abbiamo fatto l'esperienza finale, quella che tutti aspettano. Per farla però è necessario vestirsi in maniera adeguata e decisamente antiestetica, per poter affrontare in tutta sicurezza il bagno nell'acqua ghiacciata del Mar Baltico. Sì, esatto, ci siamo goduti un bagno in un'acqua con una temperatura intorno a 0 gradi centigradi e per un attimo ci è venuta in mente la famosa scena di Titanic. Ma ovviamente noi eravamo ben protetti e l'esperienza è stata davvero confortevole. E mentre il sole si abbassava sulla distesa ghiacciata, regalandoci un tramonto mozzafiato, ci siamo goduti una cioccolata calda mentre la nave ritornava verso il porto, lasciandoci nel cuore il ricordo di un'esperienza memorabile. Grazie a tutti.